La mia presenza qui, insomma, intanto sono molto contento perché tornare nella propria città e avere un riconoscimento, insomma, credo che per un artista sia sempre piacevole. Sono contento che l'assessore Marano e Francesco Bertolino, il presidente della Commissione Cultura, mi abbiano contattato perché in qualche modo, insomma, è un riconoscimento alla propria professione e al proprio futuro in questa città perché mi sono trasferito a Palermo da circa un anno, dopo 19 anni romani, dove mi sono formato, mi sono emancipato, ho creato il mio bagaglio e adesso provo a metterlo a frutto qui nella mia città.